Ok, vediamo cosa vuoi vedere, ok, quindi guardami, ciao, Martina Amati, col sedia sui tre, scade il tuo, stop, quando gli hai cinque, si pide, vado a vedere il portiero, ok? Ok, 5, 4, 3, 2, vado? Vai Vai Grazie per la visione Grazie a tutti 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 28-28 Grazie a tutti 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 Aspetta Vai Tornare bene Tempo? 7.30, buono Magdi Trova strassuttenita E' che c'è a metà macchia Sopra 1000 Non scendere Tira, tira, tira Buono Dai che hai fatto L'ultimo round Magdi Ti riposi dopo Non rallentare Magdi Non rallentare Ti riposi nelle transizioni Tira, tira Non è che ne mancano solo 7 Non è che Grazie a tutti. 9.31 1.31 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 2.31 bilanzio da 15 e mezzo 10 mezzo 10 mezzo